Stelina, via un po' qua Allora, di un po', un attimo Quante lotti hai fatto? Oggi, almeno 106 Ma c'era lezione? No Hai scritto sulla chat Ho scritto un po', ma non mi ha cagato adesso Il po' che ha risposto? Adesso è morto Esatto Oggi Marco, ti senti bene? Benissimo Punk e squat, malato come sempre Ti sei portato rinforzi oggi, vero? Sì Mi amico pesista Sei pronto per stasera che viene King Kong? Prontissimo C'hai paura? No, niente, sono contento Sa quello quanto pesa? 110 110 tirato L'ho visto In Senegal In Senegal si allenava coi leoni Abituarci ad allenarci contro i draghi Cosa state facendo? Stiamo giocando La merda come le merda Lui ti schiaffo i preghi Da che copriane? 75 Allena merda Ciao Sei notte Vai lì Anche adesso la foto Non la barba Vai lì Vai lì Anche in senegal Anche in senegal Anche in senegal Dì a tutti cosa hai imparato da quando viene alla White Gym, dillo, 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 che tutto sia possibile, che tutto sia possibile, grande ritorno oggi il commentator Fabio, è pronto per quest'allenamento di oggi? Sì, però non mi alleni, come non ti alleni? Non giochi a voi, ah, non ritorno, mi dà, mi alleno, mi dà Siete pronti? Pronto Pronto DJ racconta a tutti cosa hai fatto Ah, in sostanza, entrando nella doccia, sono scivolato, per salvare la mia vita ho sacrificato l'involumità dalla porta E quindi l'hai sfondata praticamente? Sì, l'ho sfondata Cosa sai perché? Perché sei andato via prima, dalla lezione, il Dio del Jiu Jitsu t'ha punito D'accordo con te Da cosa hai imparato da questa cosa? Che non devi mai andare via? Prima, è che il Dio del Jiu Jitsu esista Bravo Grazie a tutti